Un cordiale saluto ai telespettatori di Teleunica, non giochiamoci il futuro. Parliamo ancora del progetto di sensibilizzazione varato a livello provinciale contro le dipendenze da gioco d'azzardo, vale a dire le ludopatie. Diversi i soggetti istituzionali che hanno dato vita a questo progetto, a questa campagna e tra i soggetti principali vi è il CSI, il Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Lecco. Abbiamo il piacere di ospitare il Presidente Ennio Airoldi, ben arrivato Presidente. Grazie, il piacere è tutto mio, grazie per questa bella opportunità. Intanto un carissimo saluto anche a tutti i telespettatori, una buonasera a tutti. La vostra è un'adesione in termini sia di principi, di valori, questa adesione si è anche concretizzata, possiamo dire, con un'iniziativa formale e fortemente simbolica. Domenica sera abbiamo vissuto un bel momento simbolico, un po' una cerimonia d'apertura, se vogliamo, di questa nostra partecipazione, con le nostre finali di pallavolo femminile categoria open, una realtà importante, una realtà che comunque nel CSI con tutte le categorie open comporta circa 200 squadre, tra calcio, pallavolo, basket, senza poi contare tutto l'esercito di persone che fanno, di appassionati, insomma che fanno le corse campestre, che fanno atletica o che fanno arti marziali. Quindi c'è un mondo variegato, insomma, all'interno della nostra proposta e questo è stato un po' il momento simbolico in cui abbiamo voluto lanciarla, ecco questa iniziativa. Era una finale, fondamentalmente di pallavolo. E questa iniziativa ha avuto come cornice il comune di Verculago, quindi prima le partite, la celebrazione proprio dello sport, con tutti i suoi valori e le sue passioni e poi questa sottoscrizione proprio della carta dei valori che è stata predisposta dalla rete a livello provinciale. Esattamente. Intanto anche un paio di immagini, se volete, proprio sul clima che si è creato anche domenica sera in occasione di queste finali. Abbiamo visto tante ragazze dare il meglio di sé attraverso l'attività sportiva. Abbiamo visto tante ragazze impegnarsi, tante ragazze vivere la propria passione sportiva con molto, con molto entusiasmo, con tanta voglia, con tanta passione e anche con tanta competenza tecnica, perché comunque il livello tecnico è stato sicuramente interessante. Un po' il vertice di un movimento comunque importante. Queste ragazze sono state tutto l'anno, insomma, in tutta la stagione sportiva accompagnate da persone fantastiche, che poi sono i loro dirigenti, i loro allenatori e comunque che si mettono, insomma, a disposizione un po' della nostra attività sportiva per fare in modo che adulti, giovani, bambini anche nel caso delle categorie giovanili, possano vivere nel modo migliore questa esperienza sportiva e crescere, no, attraverso lo sport, testimonare dei valori. E allora domenica sera queste ragazze hanno testimoniato un valore molto importante, quello del gioco positivo, perché è stato veramente così, questo modo appassionante di giocare, questo modo appassionante di vivere la propria esperienza sportiva in relazione con i propri compagni di squadra e con le avversarie, è senz'altro il modo migliore per testimoniare questo aspetto della campagna in cui crediamo fortemente, che è questo gioco positivo, che è il giocare positivo. E di fatti possiamo anche vedere quella che è la grafica della campagna denominata l'azzardo a zanna, ma poi la sottodicitura, io credo davvero sia sintomatica della filosofia che muove tutti gli enti che hanno dato vita a questa campagna, che è costituita appunto da una rete, la rete lecchese per la promozione del gioco positivo. Il concetto non è quello di criminalizzare il gioco d'azzardo, certamente però occorre contrastare tutte le degenerazioni che poi possono sfociare i dati, noi abbiamo dedicato molti appuntamenti a questo tema e molti approfondimenti, i dati lo dicono, aumentano le ludopatie e il CSI invece propone il gioco con tutto quello che comporta in termini positivi. Assolutamente sì, infatti se vogliamo è stato un po' un fulmine al CSReno l'esperienza di partecipazione a questa rete di associazioni che intanto è capitanata dall'amministrazione comunale di Lecco. Che è l'ente capofila. Che è l'ente capofila, esattamente. Poi le leggo perché a memoria sono tante e comunque fanno parte di questa rete gli ATS della Brianza, la SST di Lecco, la cooperativa sociale atipica, i CSV di Monza, di Lecco e di Sondrio, l'Auser provinciale, l'associazione Il Gabbiano, l'Arci provinciale, l'ASFAT, appunto noi come CSI e anche le organizzazioni sindacali, quindi CGL, CISL e UIL. Ecco in questo variegato mondo si muove veramente un gruppo di persone che è veramente attenta all'altro, attenta alla persona e allora questa cosa veramente ci unisce perché i nostri allenatori, insomma i nostri dirigenti hanno questo esercizio, questa voglia comunque di essere attenti agli atleti, agli sportivi che comunque vengono a fare l'esperienza sportiva. Lo stesso è in questo tavolo, in questa rete. ci sono veramente tante persone che con diverse competenze vogliono appunto essere attenti alla persona e quindi insieme sottolineare questo filo conduttore che è la promozione del gioco positivo. In maniera positiva insomma vogliamo cercare insieme di metterci a disposizione del territorio per provare insieme a contrastare questo problema che è il gioco d'azzardo. Per la cronaca sportiva il torneo l'ha vinto Vercurago. Certamente, infatti Vercurago è una realtà importante, Vercurago è una società molto molto importante. Da diversi anni Vercurago copre tutte le categorie, l'OSGB Vercurago copre tutte le categorie nella nostra pallavolo e è una comunità sportiva in senso pieno e quindi sono arrivati alle finali con due squadre e si sono confermate nel titolo provinciale perché comunque le ragazze che hanno vinto quest'anno l'hanno vinto anche l'anno scorso e quindi a loro facciamo veramente tanti ringraziamenti e tanti complimenti per questa bella testimonianza. Presidente, io la invito insieme ai nostri telespettatori a guardare alcune interviste che sono state realizzate domenica sera dal nostro Matteo Filacchione proprio nel corso di questa bella festa dello sport positivo, dello sport pulito, del gioco denso di valori e poi torniamo ancora in studio, ma intanto vediamo queste interviste. Ce le guardiamo volentieri. Questa iniziativa nasce nelle attività del progetto Non giochiamoci il futuro, ente capofila comune di Lecco per i comuni della provincia. Il CSI si è seduto al tavolo dei soggetti che partecipano alla rete territoriale e si è fatto promotore di questa iniziativa di sensibilizzazione per l'adozione della carta dei valori di contrasto al gioco d'azzardo. Quindi vorrei ringraziare sentitamente il presidente del CSI per questa collaborazione, questo messaggio importante che danno agli atleti, alle squadre e ai giocatori, anche il comune di Vercurago, il sindaco che è qui presente. Perché a Vercurago il sindaco? Innanzitutto c'è la squadra locale, l'Oratorio San Giovanni Bosco di Vercurago che ha una squadra in tutte le categorie dal CSI. Siamo orgogliosi sicuramente di avere questa società sportiva che coinvolge così tante ragazze perché questo settore è femminile. L'altro aspetto invece è quello educativo che è legato al discorso del gioco d'azzardo e di questa attività di richiamo dei ragazzi. Io ho partecipato due anni fa all'incontro che è stato proposto a Lecco con Don Mazzi e lì sono stati presentati dei dati veramente allarmanti su quella che è la situazione in Lombardia del gioco d'azzardo. E quindi subito con la scuola, con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, noi abbiamo preso un educatore di una cooperativa, abbiamo fatto un progetto con la scuola e anche loro hanno presentato dei disegni, degli slogan, delle frasi che noi abbiamo esposto durante Vercurago Espone del 2016 e poi sono stati esposti per un bel po' di tempo nell'attio del Comune di Vercurago. Il Comune ha proprietà di tre locali, di tre bar in Vercurago e in tutti i tre contratti è stata proprio messa una clausola che vieta il posizionamento di macchine per giocare. Quello che si può fare insomma si fa perché l'importante è la coerenza e poi anche il discorso del regolamento per la distanza già dal 2011 che è stato approvato dal Consiglio Comunale quindi è un qualche cosa che fa parte della nostra sensibilità. Noi pensiamo che sia importante fare sport perché sicuramente è un momento di aggregazione, io personalmente credo che sia un modo per conoscere più persone possibile e per integrarsi comunque nella società e quindi penso che anche l'evento di stasera sia un bel messaggio sia a livello sportivo che a livello umano perché comunque richiama qui tante società, tante squadre ma per vedere dalle partite di bello sport. Cosa può fare secondo voi lo sport contro il gioco d'azzardo? Lo sport può cercare di includere tutte le generazioni quindi partendo da quelle più giovani ma fino anche agli adulti per fare in modo che le persone siano impegnate in qualcosa di reale, concreto in cui ci si possa divertire senza farsi del male. Perché è importante l'iniziativa di questa sera contro il gioco d'azzardo? È importante perché il vero gioco è sicuramente uno sport che ha messaggi positivi e il gioco d'azzardo è sicuramente uno sport non positivo ed è una piaga. Abbiamo visto cinque ore di pallavolo e sicuramente questo può dare solamente atto al gioco sano e pulito che si vede nelle nostre palestre, nei nostri campi di calcio, nelle palazzette di pallavolo. Come nella scuola e nello sport insegnare ai bambini che nella vita tutto si conquista e non facilmente con il gioco. Il gioco dello sport sicuramente ma non perché uno deve indovinare, tirare una macchinetta o buttarvi i soldi in quel mondo. Gli allenatori, i dirigenti questa cosa la mettono sempre dentro. Di stare attenti, di non cadere in queste illusioni, chiamiamole illusioni. Assolutamente palpabile il clima di entusiasmo, di festa, di gioia Presidente Eroldi che abbiamo colto appunto da queste testimonianze. Vorrei con lei anche sottolineare come la sensibilizzazione delle giovani e generazioni sia cruciale. Primo perché i giovani poi si fanno portatori in modo attivo, proattivo di tutta una serie di valori anche presso gli adulti per esempio in famiglia o nei vari contesti. E poi perché purtroppo lo sappiamo il gioco d'azzardo coinvolge sempre più anche le nuove generazioni con le tecnologie e quindi i siti online di scommesse e via dicendo. Quindi la sensibilizzazione dei giovani è cruciale. Infatti d'accordissimo. Intanto noi come tutti insomma nella rete crediamo nei giovani e ci crediamo fortemente e siamo molto contenti ad esempio quando un giovane, magari una ragazza di quelle che comunque anche domenica sera ha giocato e che magari a un certo punto capirà che non può più continuare l'esperienza sportiva, tornerà dall'altra parte della barricata e si metterà a disposizione magari dei più piccoli anche con la propria esperienza, con la propria voglia di insegnare sport e di insegnare valori attraverso lo sport. In questo credere nei giovani appunto noi abbiamo scelto questa iniziativa, questa finale proprio perché attraverso di loro vogliamo provare a far passare questa campagna. Come lo faremo? Ne riparleremo con la prossima stagione sportiva perché adesso ormai appunto siamo al momento clou della stagione ma con la prossima stagione sportiva, con i mesi d'ottobre, con i mesi di novembre, proveremo anche con l'aiuto dei nostri gruppi arbitrali ad arrivare un po' a tutte le nostre realtà giovanili, qui nelle categorie open, nelle categorie top junior fondamentalmente, del calcio, della pallavolo, del basket, dell'atletica piuttosto che delle arti marziali e delle altre discipline e proveremo ad arrivare con questo messaggio proprio perché siamo convinti che loro da questo punto di vista ci aiuteranno in maniera importante a trasmetterlo e intanto come prima cosa ad averlo proprio. Cos'è lo sport per voi? Per noi lo sport è uno strumento educativo, uno strumento importante. Pensate che in provincia insomma abbiamo grosso modo 180 società sportive, 170, 180 di queste e la maggior parte sono società degli oratori come l'SGB Vercurago, come le società delle finale di domenica e quindi all'interno di questo filone queste comunità sportive propongono l'attività sportiva a partire dai più piccoli, quindi dagli Anderotto, a salire fino ad arrivare comunque ai giovani e agli adulti. Quindi per noi attraverso diverse dimensioni, attraverso diverse realtà, però con lo sport vogliamo proprio arrivare a loro, al loro cuore. Presidente, grazie per essere stato nostro ospite, complimenti anche per la straordinaria attività che portate avanti nel territorio provinciale e anche per la decisione, la scelta convinta di avere aderito a questa campagna, l'azzardo a Zanna e dunque non giochiamoci il futuro e giochiamo invece positivo. Grazie. Grazie, grazie ancora e ci vediamo sui percorsi dello sport e sui percorsi del gioco positivo del CSI. Grazie, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.